Bulgarini Ascensori, da oltre 50 anni, rappresenta l'eccellenza nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di impianti elevatori. Siamo un punto di riferimento per chi ha un impianto elevatore o per chi sta pensando di installarlo. Offriamo servizi di assistenza e manutenzione post vendita con personale esperto per mantenere un eccellente standard di sicurezza, qualità ed efficienza dell'impianto. Inviaci una richiesta o contattaci per ricevere la nostra miglior soluzione personalizzata. Bulgarini Ascensori, un ascensore ti cambia la vita.